Una zona gialla rafforzata nei giorni feriali con il divietto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un'altra abitazione nella regione per massimo due persone e una zona arancione nel fine settimana. Questa è, secondo quanto si apprende, l'impostazione del nuovo decreto che andrà in CDM e che sarà in vigore fino al 15 gennaio. Il testo prevede anche l'abbassamento della soglia dell'RT che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce che sarà in vigore da lunedì 11. Con RT ad 1 si andrà in zona arancione e con l'RT a 1,25 in zona rossa. Tra il 7 e il 15 niente spostamenti tra regioni. Dopo il vertice riunito dal premier Giuseppe Conte con il ministro Boccia, i capi delegazione della maggioranza e il comitato tecnico scientifico è emersa l'idea di un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio. Le proposte sono due, quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio, arancione nei feriali e rossa nel weekend data di scadenza dell'ultimo DPCM, oppure di ritornare in zona gialla per il 7 e 8 gennaio per poi passare le misure della fascia arancione il weekend del 9 e 10 e successivamente sulla base del monitoraggio assegnare le fasce per la settimana seguente. Prossimo weekend rosso, valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi con la salvaguardia dei comuni più piccoli per gli spostamenti. Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti, si tireranno le somme con il governo così a quanto si apprende il Ministero della Salute Roberto Speranza al termine del vertice con le regioni. Sempre a quanto si apprende per i comuni sotto i 5.000 abitanti saranno comunque possibili gli spostamenti entro 30 chilometri ad eccezione del capoluogo di provincia. Misure più rigorose, stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell'RT per accedere in zona rossa o arancione, misura che incide sul modello della zonizzazione. Così a quanto si apprende il Ministro per la Salute Roberto Speranza in merito alla cosiddetta ordinanza ponte. La proposta oggi non è di cambiare i parametri che restano gli stessi perché hanno funzionato, ma le soglie di accesso ad una zona, decidendo di essere ancora più rigorosi per consentire alla campagna di vaccinazione di avere delle reti sanitarie meno appesantite da difendere con maggior forza. Quando l'RT supera l'1, così a quanto si apprende il Ministro per le Autonomie Francesco Boccia nel corso del vertice con le regioni, la zonizzazione e le responsabilità dei territori, prosegue Boccia, hanno funzionato perché hanno portato il Paese da 1,72 a 0,8 e questo è un risultato oggettivo. I presidenti delle regioni sono quasi tutti concordi con misure rigorose anche per le prossime settimane, purché non siano modificate di settimana in settimana e siano garantiti i ristori. E quanto emerge secondo quanto si apprende dal vertice tra regioni e governo. Diversi governatori sarebbero anche concordi sulla modifica in senso restrittivo dell'RT per accedere alle zone. Infine le scuole. Le scuole elementari e medie tornano in presenza dal 7 gennaio, mentre sulla riapertura delle superiori diversi governatori ritengono che sia decisivo aspettare l'esito del monitoraggio previsto l'8 gennaio. E la questione è incidentalmente posta dai presidenti di regione durante il vertice di ieri sera che ha riguardato invece come oggetto principale le altre misure dopo il 7 gennaio.